Ciao ragazzi, come state? Oggi ho trovato in un negozio di giocattoli questo cubo molto particolare, come vedete si chiama Fall Lockets ed è veramente particolare, non l'avevo mai visto da nessuna parte, né in pubblicità non ho visto nessuna recensione a parte che non sono andata a cercarmi nessuna recensione però, nuovo e mi incuriosiva parecchio, anche perché adesso vediamo tutte le cose che ci sono, perché veramente, guardate è descritto, ci sono tante cose da aprire c'è la chiave glitterata che adoro, è bellissima allora, vediamo cosa sono i Fall Lockets trova le chiavi e scopri i segreti, 18 sorprese incluse charm serie 1 quindi la prima serie è lo scrigno dei gioielli segreti, distribuito da quello qua in piccolo piccolo piccolo, da grandi giochi ed è consigliato dai 4 anni in su poi, collana o braccialetto più di 75 charm da collezionare poi, vabbè, qua ci dice che è appunto distribuito da grandi giochi in collice a bar andiamo avanti c'è anche il sito si chiama funlockets.com e c'è scritto più di 75 charm da collezionare che l'avevano già detto sì, esatto e più ci dice anche ci sono charm rari e profumati anche quindi wow, fantastico poi è fatto cioè, veramente il packaging è fatto bellissimo cioè, è proprio stupendo e poi c'erano diverse chiavi mi pare che allora questo ragazzi ce l'era almeno nella scatola c'era o fucsia o viola e mi ha ispirato tantissimo il viola perché mi sono innamorata di questo cuore verde e anche della chiave verde la chiave c'è in diversi colori ok, andiamo ad aprirlo vediamo se c'è un'apertura facilitata o se dobbiamo andare di forbici no, non c'è nessuna apertura facilitata quindi andiamo di forbici ok, guardate che bello che è lo scrigno e qui abbiamo la nostra chiave è una chiave trasparente glitterata a forma di cuore contatto di piccolo cianco scritto appunto fan lockets molto carina sono anche scolpite se vedete c'è un cuore con una stella una sfera al centro e qua abbiamo il nostro scrigno guardate che bello è super glitterato lo adoro allora da che porta iniziamo allora io qui ah ma ragazzi aspettate ci sono diverse forme vedete allora qua c'è la chiave con la forma di mia chiave qua è a forma di cuore a nota musicale questa è un po' diversa ancora questa è diversa ancora aiuto io ho solo una chiave io ho la chiave a forma di cuore perciò la inserisco qui vediamo cosa succede no wow ragazzi ma che bella sta cosa wow allora cosa c'è c'è un due charm ah e qua c'è l'altra chiave oh mamma mia no ragazzi bellissima sta cosa allora calma calma e sangue freddo qui abbiamo un charm con appunto questo cactus verde devo dire che è semplice ma ho fatto bene il gancetto qua è di plastica perché deve essere ecco vedi oh diventa la prossima chiave no ragazzi è fantastico ok scusate e qui abbiamo un altro charm ma cos'è non so un sombrero mi pare che si chiami giusto non credo che profumi no nessun profumo quindi qui abbiamo un cassettino che poi possiamo anche utilizzare per mettere le nostre cose ora lo richiudiamo e stacchiamo la chiave utilizziamo la nuova chiave e questa chiave va no qui sulla stella oh ragazzi è bellissima sta cosa la adoro ok e qui troviamo no cioè dai sono fatti veramente bene ognuno ha il suo sacchettino cioè wow intanto annudo se qualcosa profuma no allora qui abbiamo cosa sono ah delle scarpette da ballerina cioè piccine piccine picciò proprio con un hamburger no scusa che hamburger un hot dog sempre con la prossima chiave che è quella che io ho definito nota musicale quindi chiudiamo questa porta ragazzi è troppo bello e questa eccola qua ops mamma mia un elefantino che carino qua nessun profumo allora c'è questo elefantino che ragazzi è un amore cioè veramente è un amore è troppo chiutissimo dietro è piatto semplice mentre qua la prossima chiave è questa farfalla simpatica ma niente di particolare ma simpatica quindi andiamo a vedere intanto chiudiamo la nostra porta ok la prossima chiave apre qua eh ma se non vieni fuori ok si è rincastrato qua abbiamo un lucchetto senza chiave no ragazzi che forte guardate la chiave per aprire lo scrigno principale glitterata azzurra sopra sembra che sia scolpito tipo un diamante no ragazzi bellissima sta cosa poi anche questa cosa dei cassettini cioè fantastica adoro ok quindi spostiamo queste cose qui andiamo ad aprire lo scrigno principale c'è anche lo specchio ciao ok allora questa abbiamo la check no ragazzi c'è anche la sirena voglio la sirena voglio la sirena quindi allora trova tutte le chiavi vabbè i diversi ciali l'abbiamo detto allora sono suddivisi in categorie quindi ci sono i popular quindi facili da trovare dove abbiamo la fetta di tor diciamo un po' di dolci la ciambella poi con un gelato marshmallow caramella hamburger sushi sombrero e vai avevo indovinato teiera elefante cagnolino fenicottero poi c'è l'orsetto la sirena ragazzi che bella la sirena voglio la sirena fata ieti scarpa con tacco tiara pattini da ghiaccio racchetta da tennis le scarpette di danza che è quelle che ho trovato la tavola da surf l'arco e freccia e anello di diamanti poi ci sono i rari e sono anche glitterati wow penna avvocato new york taxi cabina telefonica passaporto porta cipra forziere pancake unicorno ape panda stella cadente le calecca smalto chitarra non ho trovato nessuno di questi mannaggia miseria poi abbiamo i profumati che sono il cookie quindi il biscotto il profumo popcorn rose maccaron poi ci sono le chiavi gemme e appunto io ho trovato quella turchese ma c'è anche smeraldo quarzo e ametista le chiavi cuore che sono le principali quindi queste turchese smeraldo quarzo e ametista e poi ci sono altre cose aspettate ragazzi allora andiamo a scoprire tutto e non voglio spoilerare le possibilità quindi qua ci sarà la collana o il braccialetto direi che è una collana molto carina una maglia abbastanza sottile colore argento carino bellino e qua abbiamo il cuore ma si apre il cuore si apre ho trovato un charm profumato no ragazzi è proprio un buon profumo bellissimo buono non saprei dirvi di cosa però è buono ragazzi mi piace alla follia questo kit questo set è wow continuiamo un attimo a vedere la nostra check quindi oltre alle chiavi del cuore abbiamo gli ultra rari che sono per le migliori amiche quindi best friends forever abbiamo cupcake conchiglia stella farfalla cuore pulcini e scrigno gioielli poi le chiavi dell'amicizia in edizione limitata e queste onestamente le chiavi dell'amicizia no non ce le ho queste poi ci sono le chiavi pop che sarebbero appunto quelle grandi e sono tutte normali quindi microfono smalto patatine cappuccino cannolo milkshake ghiacciolo koala drago la farfalla che ho trovato pinguino il gattino voglio il gattino il cactus che ho trovato razzo valigia sandwich hot dog che ho trovato soda popazza di neve barretta di cioccolato gelato fragola pacco regalo e finiamo con l'anas sono bellissimi ragazzi adoro 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 quindi praticamente noi adesso possiamo decorare la nostra collana con i charm che vogliamo allora aspettate non so prendi anche come metterli allora si metterai sicuramente è che questi qua grandi che li vedrei messi centrali onestamente non mi piacciono cioè sono un po' troppo pacchiani questi quindi questi onestamente non mi piacciono sono simpatici ma su una collana non li vedo quindi questi no bocciati e vedrai cioè nel senso che avrei messo ad esempio uno grande davanti cioè qua frontale e poi due o tre qua laterali però avendo soltanto i piccolini questi qua li vedrei più in un braccialetto comunque facciamo finta di metterlo allora il centro è qui voglio mettere il profumo centrale tramite la mollettina aspettate sono fatti anche molto bene così si evita di perderli ed è una cosa ottima direi se riesco a infilarlo ok ragazzi dopo circa tre minuti sono riuscita finalmente a inserire un unico che è quello del profumo che è molto buono l'ho messo anche storto alla fine mannaggia di qualche maglia e viene appunto così e che dire allora onestamente trovo questa idea fantastica mi piace tantissimo l'idea delle chiavi del forziere cioè è veramente molto molto bella sono fatti anche abbastanza bene devo dire questi charm quindi non sono male e quelli che mostrano qua sono ancora meglio quindi ovviamente come vi dico sempre gli artwork ingannano perché sono fatti cioè gli artwork sono stupendi sono bravissimi di disegno il prezzo di questo allora questo l'ho pagato 14 euro mi sembrava all'inizio un po' eccessivo però poi ho visto che c'erano tante sorprese all'interno quindi proprio mi ispirava come cosa poi mi sono innamorata appazzamente di questo cuore cioè veramente è stato amore a prima vista e quindi ho detto ma sì proviamo a prenderlo e devo dire che non lo so cioè sono un po' combattuta allora 14 euro non sono pochi sono sincera però è fatto veramente bene non si può negare questo perché anche ogni charm è messo in un sacchettino quindi cioè attenzione al dettaglio e questo come avete notato ultimamente viene veramente tralasciato cioè ultimamente si fanno le cose giusto per buttarle fuori e e il dettaglio manca e questo è veramente un peccato anche perché i prezzi quelli non diminuiscono continuano sempre ad aumentare perciò da questo punto di vista il dettaglio è fatto bene quindi ci sta mi piace tantissimo che non si butti via cioè praticamente cosa ho buttato via all'esterno cioè sono tutte cose che poi riutilizzate perché anche qua potete riutilizzare con le chiavi ci mettete i vostri gioiellini quindi non si butta via niente e anche questo devo dare merito e quindi onestamente sì dai ragazzi il prezzo ci sta forse magari non lo so forse sui 10 9,90 euro forse magari potrebbe essere stato più onesto voi cosa ne pensate sono veramente in dubbio però devo dire che cioè ragazzi ha fatto veramente bene cioè mi sono veramente divertita ad aprirlo effettivamente ci sono tante cose carinissime sono fatte bene cioè veramente continuo a dire sono fatte bene perché veramente sono fatte bene è innegabile non so ragazzi voi cosa ne pensate scrivetemelo giù nei commenti ne volete vedere qualcun altro aperto io sarei veramente tentata anche se il prezzo un po' mi lascia perplessa però sarei veramente molto tentata quindi aspetto di avere il vostro parere se volete vederli anche voi scrivetemelo giù nei commenti e niente che dire è stata un'avventura veramente è stata un'avventura mi sono diventata tantissimo a trovare le chiavi troppo bello troppo bello e niente ok quindi ragazzi io vi saluto mi sono veramente divertita cioè ragazzi è stato veramente divertente altro che aprire le 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 surprise con quell'affarone questo è decisamente molto più divertente e niente ragazzi quindi per oggi è tutto vi ricordo potete trovare su twitter instagram facebook tumblr tutti i link sono in descrizione vi ringrazio sempre di seguirmi un bacione al prossimo video ciao ciao ciao